Il gruppo è pronto, il gruppo è la categoria 10 caschine, siamo a 29, prossimo giro sentiremo il primo suono della campana, prossimo giro, campana e prima eliminazione di meno 27, campana, eliminazione prossimo giro, eliminazione prossimo giro, ecco gli all'arrivo con l'ultimo pattino, 140 Brian Borges, siamo alla campana, meno 26, non c'è respiro, giro riposo, un giro eliminazione, campana, bella grossa, bella grossa, bella grossa, bella grossa, bella grossa, bella grossa, ancora, ehi, ancora caduta, gara, 165 eliminato, 103 a moito, quella di prima, allora vediamo adesso quando si ripartiranno le prossime eliminazioni, c'è un gruppetto che è andato via, un gruppetto di 4 persone che è andato via, vediamo se qualcuno ci prova a riattaccarsi, siamo almeno 22, qual'è la prossima? Meno 21, prossimo giro, traguardo, meno 21, prossimo giro, traguardo, traguardo, 3-1, ecco il traguardo, 2-3-6, 2-3-6, 2-3-6-2-6-1, siamo a campana di meno 18, campana di meno 18, campana di meno 18, eliminazione in corso, eliminazione di meno 17, e ora di nuovo staccato, 1-2-1, eliminato, numero 17, 14 eliminato, e ora di nuovo campana, prossimo giro, eliminazione in corso, il prossimo giro, eliminazione in corso, eliminazione in corso, il prossimo giro, eliminazione in corso, eliminazione in corso, eliminazione in corso, eliminazione in corso, il prossimo giro, eliminazione in corso, eliminazione in corso, eliminazione in corso, eliminazione in corso, il prossimo giro, eliminazione in corso, eliminazione in corso, eliminazione in corso, eliminazione in corso, Certo preliminato, 2.36 al momento, tramonto 1.6, 1.287, 1.287, campana di meno, 13 e di 14 ore, eliminazione, eliminazione, eliminazione. 142 eliminato, siamo al passaggio di meno, si ricampana, campana di meno 12, prossimo passaggio eliminazione, c'è un atleta attardato da solo, due gruppi, si sta ricogliugendo il gruppo inseguitore. Meno 11, eliminazione per Edoardo Calarretta, siamo alla campana di meno 10, meno 10 in campana. Prossimo eliminazione, prossimo eliminazione, eliminazione in corso, eliminazione. Prossimo, traguardo, 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 traguardo in corso, traguardo in corso, traguardo in corso, campana, eliminazione. 2, 3, 6, 2, 8, 7, attenzione, eliminazione, 7, eliminazione, eliminazione, eliminazione. 119 eliminato, siamo al passaggio, siamo al passaggio, la campana di meno 6, campana di meno 6, a meno 2 in traguardo, campana. 119 eliminato, eliminazione, 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 eliminazione. Eliminazione di meno 5, 118 eliminato, attenzione, ancora una campana di meno 4. Meno 4, prossimo giro, prossimo giro, eliminazione, prossimo giro, eliminazione, attenzione all'ultimo terzetto, vediamo chi per l'ha eliminato, ai meno 3. Eliminazione, traguardo, traguardo, prossimo traguardo, 18 eliminato. Traguardo, 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 20, 2, 36, prossimo eliminazione. Eliminazione, eliminazione in corso, eliminazione. Eliminazione, peccato agli ultimi due, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro, eliminazione, 2, 38. Eliminazione, eliminazione, negativazione. Peccato, peccato